In un nemico! Ehi! In un nemico! Guardate qualcuno! Dei un pezzo di no! Lo faccio a pezzi! Controllate la zona! Ci sono dei rinforimenti! No! Vedi i proiettili! In un nemico! Divinuato! Ehi! Un nemico! Contatto nemico! Fuoco di uno nemico! Ho fatto! Ecco il testo di un dismedico! Ecco il fatto che ho risistemato! Quei mi serve un cazzo di medico! Fuoco del cazzo! Contatto nemico! Contatto visibile! Contatto con un soldato nemico! Contatto! Localizzato un cecchino! Contatto! Ho individuato un cecchino! Ehi! Ho individuato un cecchino! Localizzato un cecchino nemico! Da tutte le squadre ci sono i rifornimenti! Contatto! Contatto! Ehi! Ho localizzato un cecchino nemico! Contatto! Faccio rifornimenti completati! Ho individuato un cecchino! Un cecchino nemico! Un cecchino nemico! Un cecchino nemico! Contatto! Un cecchino nemico! Contatto! Contatto! Scusate! Un cecchino nemico! Contatto! Contatto! Ma che per l'alphao? Occhio da! Chino nemico! Condividuato! Condividuato c'è chino nemico! Dato nemico localizzato! Tutto c'è chino! Soltato nemico contratto visibile! C'è chino in vista! A tutte le squadre ci sono i rifornimenti! Soltato nemico! Soltato nemico! Soltato nemico! Soltato nemico! Soltato nemico! Oh! Attenzione! Lo faccio sentare in aria! Ehi, c'è chi è la droga? Ehi, c'è chi è? Ehi, c'è chi è?